Politica nazionale, agenda del partito, legge elettorale. Ne ha parlato a Termoli la senatrice Paola Pelino, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, che insieme ai consiglieri comunali Michele Marone, Francesco Rinaldi e Francesco Roberti ha illustrato le prossime sfide del partito che tra le priorità ha proprio quella di riportare al governo sia a livello nazionale che regionale il centrodestra. È per questo che la senatrice abruzzese, consapevole di un quadro politico nazionale molto confuso, ha lanciato un appello all'unità a tutte le anime del centrodestra, compreso il movimento di Parisi e quello di Fitto. La senatrice ha spiegato che non si andrà al voto prima di febbraio del 2018, quando probabilmente ci sarà un election day in Molise, visto che si voterà anche per le regionali. La legge elettorale, che all'indomani delle dimissioni di Renzi i partiti si erano impegnati a fare in pochi giorni, a quanto pare ha bisogno di una gestazione più lunga, non prima di settembre, secondo l'apelino, per una legge proporzionale che dovrà dare maggiore rappresentanza al territorio. Sono convinta che bisognerà sedersi a un tavolo un po' a tutte le forze politiche e mettere in piedi una legge elettorale che naturalmente dia più rappresentanza e la rappresentatività e la governabilità al nostro paese. Una legge elettorale che dovrà essere molto più omogenea sia per la Camera che per il Senato, proprio per non creare degli squilibri. Squilibri che poi non ti consentono di governare come si deve. Tempi? Tempi prevedo che per fare una legge elettorale come si deve si arriverà all'inizio dell'autunno, nel senso che o prima della pausa estiva. Abbiamo il G7 a maggio e poi a settembre subito le aule dovranno mettere in piedi una finanziaria e quindi credo che si arriverà a dicembre, si scioglieranno le camere e a febbraio si andrà a votare.